Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo di Thailandia, andiamo sulla pagina di Viaggiare Sicuri che sapete è il sito che si occupa appunto di mantenere informatico nazionale che vanno all'estero in qualsiasi paese potete ovviamente da questo sito selezionare tutti i paesi del mondo, in questo caso noi scegliamo Thailandia perché stiamo parlando di Thailandia andiamo a vedere l'ultimo aggiornamento pubblicato il 5 luglio facciamo un recap di quelle che sono le rule of thumb, quindi di comportamenti da mantenere prima di partire quelle cose che secondo me sono molto importanti vi faccio vedere anche una funzionalità molto importante di questo sito che io ho sempre portato avanti negli ultimi anni che vi consiglio caldamente perché è molto importante quando poi andate in un paese lontano, completamente diverso e magari poi per mettersi contatto con i parenti c'è il fuso orario e quant'altro quindi questa cosa ve la consiglio altamente poi vi faccio vedere anche la quotazione di un'altra cosa che può esservi utile e ora come sempre andiamo a vedere tutti i dettagli insieme nel corso di questo video come sempre ragazzi prima di cominciare il video mi raccomando importantissimo quella che vedi a schermo è la playlist Thailandia del mio canale youtube con tutti gli ultimi video aggiornati con tutte le novità se segui la Thailandia con interesse, se andrai in Thailandia a breve o semplicemente se ti piace la Thailandia e vuoi seguire un po' l'argomento di questo canale come sempre se il canale ti piace mi raccomando iscriviti e lascia anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di youtube anche questo è molto molto importante perché fa sì che il video possa essere visto e apprezzato da più persone come sempre ragazzi direi ora sigla e poi cominciamo con il contenuto del video di oggi partiamo dalla home page di viaggiare sicuri e quindi siamo sulla pagina relativa alla Thailandia vediamo che c'è un ultimo aggiornamento del 5 luglio e andiamo a vedere quello che è stato pubblicato e quello qui in evidenza Thailandia importanza di munirsi di assicurazione sanitaria voglio leggere il paragrafo che hanno allegato perché è molto interessante pur non vigendo un obbligo giuridico quindi non c'è richiesta come ai tempi del covid di assicurazione è fortemente raccomandata la stipula di una polizia assicurativa sanitaria per l'intero periodo di permanenza in Thailandia questo perché se state un mese vi raccomando la polizia deve essere un mese quindi non si scappa sia per i connazionali residenti che per i turisti in questo caso ovviamente ci rivolgiamo più a chi va in vacanza in Thailandia perché un residente si presuppone che abbia già una copertura assicurativa questo perché le strutture ospedaliere e locali sono ottime cioè le strutture private nel quale uno straniero andrà in caso di bisogno sono di livello altissimo ma hanno tariffe molto molto alte questo vuol dire che se devi pagare in contanti o con la tua carta anche un'adegenza di 2, 3, 4 giorni in un ospedale ti puoi trovare a pagare migliaia di euro questo può mettere in difficoltà magari qualcuno che non ha un conto corrente particolarmente solido questo perché poi cosa causa tanti casi in passato e sono visti di persone che hanno chiesto soldi ai parenti gli amici in Italia per potersi curare attenzione quindi ragazzi questo è molto molto importante poi adesso vediamo quanto costa in realtà una polizza e ovviamente capiremo che per quella cifra non ha nessun senso andare a rischiare un viaggio senza copertura sanitaria abbiamo poi l'aggiornamento Covid dove viene di nuovo confermato non è richiesta nessuna vaccinazione non è richiesto nessun tampone negativo quindi tutto tranquillo in primo piano poi viene ricordato che per andare in Thailandia serve un passaporto ovviamente valido con almeno 6 mesi di validità residua tra l'altro questo lo diciamo, lo ribadiamo all'arrivo si ottengono 30 giorni non più 45 come venne fatto a marzo 30 giorni quindi questo è il periodo che avrete a disposizione per il vostro viaggio poi se volete stenderlo insomma immigration pagate 1.900 baht e avrete altri 30 giorni vi lascio anche il contatto dell'ambasciata che può essere utile lo vedete qui ambasciata c'è un contatto mail il sito in realtà è sempre valido quindi può essere un contatto che nel caso può esservi utile parlavamo di assicurazione io per quanto riguarda il mio viaggio mi sono affidato ancora una volta ad Allianz ne abbiamo parlato sul canale diverse volte io l'ho utilizzata anche quando ho avuto insomma dei piccoli problemi lì e devo dire che vi sono sempre trovato abbastanza bene il vantaggio di Allianz è che pagano in anticipo questo vuol dire che tu quando vai in un ospedale e ti curano loro pagano tutto tu non sborsi neanche un centesimo e non ti devi poi preoccupare di ottenere il rimborso in Italia questo è importante perché alcune compagnie in realtà ti dicono sì paghiamo ma devi pagare tu in anticipo e poi una volta tornato in Italia a quel punto ti viene rimborsata la spesa che hai fatto e quindi questo può essere per qualcuno che magari non ha un conto corrente solito magari ha già il plafond della carta un po' impegnato con le spese anche del viaggio può essere poi un problema mi raccomando perché se non pagate non vi curano quindi questo lo ribadisco andiamo a vedere quanto costa in realtà una polizia e vediamo di chi ci stiamo parlando qui andiamo a digitare Thailandia polizza Allianz che anche questa vi ricordo consente tramite buy on di recuperare circa 7 euro tramite cashback quindi vi lascio in descrizione sia il link di Allianz che il link di buy on per il cashback simuliamo il costo di una polizza partendo in un agosto e fino il 20 di agosto quindi circa una ventina di giorni circa quindi tre settimane inseriamo una persona nella fascia d'età tra i 26 e i 60 direi quindi che siamo pronti facciamo calcola e andiamo a vederci quanto costa eccola qui la polizza Travel Care che abbiamo scelto costa 117 euro 60 centesimi quindi per un viaggio di 20 giorni stiamo parlando più o meno insomma malcontati di circa 5-6 euro al giorno eccola qui assistenza di viaggio spese mediche poi avete la possibilità di aggiungere altre franchigie bagaglio ritardo aereo smartphone responsabilità civile ovviamente qui scegliete anche in base alla vostra necessità penso che il pacchetto base senza viaggio spese mediche siano più che sufficienti e vedete poi nei dettagli la cosa che vi riportavo prima eccolo qui pagamento diretto delle spese mediche questo non è assolutamente un dettaglio secondo me molto molto importante e personalmente ritengo che a parità di copertura il pagamento diretto delle spese mediche potrebbe anche diciamo così autorizzarvi a una spesa extra quindi pagare anche qualcosina di più ma avere il pagamento delle spese dirette secondo me è assolutamente fondamentale leggete bene i contratti se invece magari state pensando di acquistare delle altre polizze come dicevo vi lascio in descrizione il link di Allianz ma anche il link di BuyOn che vi consentirà di avere se non sbaglio tra i 6 e 7 euro di cashback sull'acquisto di questa polizza per quanto riguarda poi viaggiare sicuri volevo dirvi anche un'ultima cosa molto importante che riguarda la possibilità di registrare il vostro viaggio eccolo qui registra viaggio individuale quindi di fatto vi consente di scrivere dove sarete in quel periodo fate accedi a qui potete accedere attraverso lo speed e di fatto registrerete il vostro viaggio in modo tale che qualora abbiate bisogno di un supporto anche insomma più importante sia più facile per l'autorità intervenire è un'attività che io ho sempre fatto ci impiegate veramente poco ed è un consiglio di una persona molto cara insomma che ha viaggiato tantissimo e che mi ha detto che in certi casi le è stato veramente molto utile direi ragazzi quindi che abbiamo visto un po' tutto l'aggiornamento di viaggiare sicuri abbiamo visto anche la polizza e abbiamo visto anche che questo è il mio contratto l'ho bloccato devo solo procedere al pagamento per farmi uscire la polizza in partenza per il mio viaggio e ve l'ho parlato nei giorni scorsi di quando partirò di quanto ho pagato il biglietto vi lascio qui in alto il link al precedente video direi ragazzi come sempre mi raccomando questa playlist un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di youtube iscrivetevi se vi piace il canale un grande abbraccio e come sempre ci rivediamo al prossimo video ciao